lucia elena e lucio quanto da 5 a 154 3 2 1 allora mi appare lei è immersa in una pozza d'acqua fino più o meno al bacino ed è legata a tante catene che vanno verso l'esterno e sono legate a un cerchio queste catene questo cerchio gira e la fanno girare come vogli questo cerchio gira e collegata alle catene l'ecole leggera col cerchio esatto c'è senza poter scegliere dove andare non ti dà l'autorizzazione 3.8 miliardi consapevolezza 116 per cento psp 32 68 vite precedenti 2.184 che farlo 9.1 interferenza eterica felinoide ci sono poi due uomini del tempo c'è un'umanoide che agisce su su lucia attraverso una specie una tavola come se fosse una tavola di legno c'è tra lui e lucia inter posto questa tavola che può sembrare una tavola di legno più o meno l'arca così un po più e agisce su lucia con questa tavola chi è questo vede derivante è andata via la comunicazione sia quando diverso un essere un manuale per i occhi ma rifacciamo le teriche universo secondo universo poi poi c'è il felinoide ci sono due uomini del tempo e un falco uniforme l3 ok chiama anche tutte le eteriche dell'epoca di lucia cattolica mediu meggiugorri seduti spiritiche letture automatiche religiosa e le canali facciamo il recinto degli idioti e li buttiamo tutte lì quelle vecchie ok allora li avevamo una mantide poi c'era un demone del secondo allora aspetta sì due demoni del secondo diverso universo 1 però è collegato a molo che l'altro a lucifero e poi altri due uomini del tempo una roba sono andati via cosa lei è giusto messia un po di santini nella filmiera esattiva sì 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 anche quando visto anche quando il marito è stato male se ne è scollegato un altro l'amantide e sì l'amantide è un uomo del tempo mentre un altro uomo del tempo è andato via quando lei si è scollegata da tutta la parte religiosa e di entità mentali allora ce n'è una di livello 3 una di livello 5 è una di livello 4 3 alla 3 è quell'entità mentale che le dico proprio così perché è proprio molto evidente le fa vedere tutto grigio cioè le parte a vedere le cose e a interagire con le cose partendo da un livello gridi grigio poi può diventare nel caso colorato oppure abbassarsi ancora di più ma la partenza è quella a quel livello di vibrazione del grigio quindi è abbastanza tendenzialmente bassa 4 la 4 è ancora questo questo è doversi occupare all'esterno soprattutto dei suoi familiari ora è una volta era un po a tutto in generale cioè doversi occupare degli altri sì 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 è questa entità mentale che potrebbe essere collegata cioè potrebbe collegata l'entità mentale collettiva a questo confondere il sentire il dovere di doversi occupare degli altri con l'altruismo ok quindi è proprio questo cinque la cinque gli occhi cinque non aprire gli occhi lei capita tutta cina erano abbattuti ogni dato facciamo già per recuperare le tue parolacce devo fare ognuno battuta ogni tanto certo posso solo parolacce allora la cinque è questo il legame questo dovere è proprio il dovere specifico nel essere per forza legata al marito ok è iniziato la non è mai finito va bene impianti intanto iniziamo ad aprire portale aureo non scaldano i motori c'è questo impianto mentale che riproduce dire impianto quindi a questo punto eterico esterno che abbiamo visto all'inizio c'è uguale all'interno della testa con in mezzo a una sfera quindi con la sfera tante catene e questo cerchio ed è all'interno della testa di lucia poi eterico lo vedevo già prima quando descriveva è come se avesse all'interno delle articolazioni delle piccole sfere tutte le articolazioni principali quindi vedo polsi comiti spalle anche ginocchia caviglia e queste spere sono collegate tutte da dei cavi sono collegate tra loro con dei cavi il burattino secamente che ha le giunture dove ci sono noi abbiamo le giunture esatto ecco se basta va bene e acufene l'impianto vertigini anche quello quello mentale assolutamente dolori muscolari e di tutti i tipi e questo mega impianto con le sferi un burattino non riesce a dipingere causa esoterica uno dei due uomini del tempo uno dei due amici il tempo in collaborazione tramite un etl con l'entità mentale di livello 3 ok fanno sì che le sue vibrazioni tornano al grigio e fan sì che lei non abbia voglia di dipingere perché essere dipinge diventa a livello energetico si carica molto la devono tenere lontana dal pennello capo del progetto e nome del progetto a capo del progetto io vedo il felinoide il nome cercherò bene abu abu pur che vuol dire allora vedo mi fa vedere questa specie di piramide di vetro allora una sorta di controllo ok motorio sì praticamente quello che vedo è che fanno allora controllando a livello motore poi durante le attacione come se sfilassero provassero a sfilare tutta la parte energetica a che il loro obiettivo è sostituire la persona con quello scheletro lì e renderla priva di tutta la parte energetica e perché abu pura è un acronimo è come se fosse in un'altra nella loro lingua tra virgolette e significa defisicazione ecco traduce così togliere la parte fisica ok il capo del progetto in realtà non è il felinoide la lucia dalla sua ps quindi andiamo al giorno al momento al momento all'istante in cui la ps di lucia va dal felinoide gli dice adesso tu fai questa cosa qui per me intorno ai tre anni intorno ai tre anni prima c'erano delle inter si c'erano già gli uomini del tempo ma alla ps quelle interferenza non era sufficiente nel senso che è come se mi fa vedere che sarebbe stata un'esperienza troppo piatta troppo poco stimolante ea tre anni ha chiamato l'intervento del felinoide per fare questo programma ok un'altra cosa mi viene ogni volta che c'era tipo il fatto che non c'era solo poi non l'ha più ritrovato non glielo hanno fatto più ritrovare ok per varie circostanze il fatto che è stata allontanata da sua mamma per il suo bene ma è stata allontanata il fatto che poi lei si sia allontanata dalla dall'altra famiglia fatto che si sia sposata presto e tutte queste cose era ecco proprio come se volessero ogni volta sperimentare diciamo la ps ha fatto sì che il felinoide facesse questa cosa con tutte le entità cioè sperimentare la sua persona senza un pezzo ok quindi l'aspetto rispetto a varie persone o varie cose come senza un pezzo cioè il rapporto col padre ti tolgo il padre tu rimani nella tua personalità con un'emozione può essere di abbandono di mancanza ok quindi ti manca quel pezzo lì poi ti manca la madre a livello energetico emotivo io ti tolgo un pezzo che tu lo devi ritrovare il modo di compensarlo riempirlo in altra maniera poi la mamma poi con la famiglia lì ai varie cose poi ti metto invece un qualcosa che ti spinge da un'altra parte quindi tu magari abbassi le vibrazioni ti chiudi ok c'è una vita di lucia tra le 2184 in cui lucia è che si sta svolgendo adesso lucia è lo totale opposto di oggi quindi magari uomo con una bella famiglia con i figli che le vogliono bene che non sono insensibili si sposa all'età giusto fa giusto esperienze ma non così drammatiche magari una vita anche meno fruttuosa da un punto di vista di esperienze ma un po più caldo se ce n'è una direi molto lineare c'è una molto lineare e c'è questo ingegnere ingegnere sì statuniti sta guardando essere sicuro vedo che era di lingua inglese statunitense che era diventato è stato assunto da questa da questa imprese da questa azienda è rimasto ha fatto un po di carriera di siamo arrivato a essere il capo di varie persone perché un certo reparto di una certa parte no di questa azienda ed è rimasto lì fino alla fine fino alla pensione tutti sono pensati a pensare portati a pensare che la propria vita sia molto difficoltosa tutti quelli degli altri sono migliori è veramente così probabilmente quando la ps decide di intraprendere una vita come quella di lucia non ha questa idea ha l'idea di una grande occasione si è come se spesso vedo che quando le ps fanno queste scelte nella vita presente perché è come se avessero perso tempo tra virgolette nelle vite appena passate spesso vedo che le dite prima allora sono un continuo di questa cosa e quindi la vita prima era già movimentata ma non è arrivata alla fine dell'esperienza e quindi la continua di qua oppure la vita prima è molto piatta e quindi è come se la ps si accorgesse che li ha perso tempo ecco e quindi fa esperienze molto alta lena pesantemente da salenanti ok profonde per cercare di recuperare tempo vabbè cinema mamma e tre figli mamma viene se la mamma viene vedo in prima fila è molto in pena si sente molto in colpa questo livello a questo punto della sua vita rispetto a lucia ecco la vedo è molto in piena vick ok è più tranquilla tranquilla più centrata a vedere cosa lucio vuole mostrarle tra figli si sono in terza fila le neutri disposti ad ascoltare ma non incuriositi ecco ok chiamiamo non sappiamo se si aveva morto il padre perché lucio non l'ha mai conosciuto vivo ecco arrivato un signore quindi dove abita penso emilia romagna emilia la parte emilia confine con la lombardia e la liguria e la ligurice in quella zona lì che potrà la lombardia e la liguria per sezioni lui sa di lucia ne aveva un pago sospetto forse aveva aveva avuto qualche notizia così però non ne sa non è sicuro e ha provato a farsi avanti no ma chi ha bloccato lui che non si è fatto avanti con vago sospetto o lei che di fatto non la madre che di fatto non ha detto nulla la madre non ha detto nulla a lui è arrivata una certa voce allora quello che ho visto prima è che è stata una cosa così e quindi è come se i suoi tempi lei si vergognasse un po un incidente lui era sposato no no allora no però non erano sposati no no però la ragazza madre è uno scandalo quindi cosa cambia scandalo per scandalo tanto vale fare uno scandalo da non sposati ed avere un uomo accanto no sì ma è come se lei c'è avesse la sicurezza la certezza che lui non ci sarebbe stato comunque e quindi ha evitato di dirglielo di coinvolgerlo ed era così ma no secondo me no non sarebbe stato così quindi qual è la causa esoterica vera uomini della marina per cui la madre se ne è stata zitta uomini del tempo allora una scelta allora vedo uomini del tempo per lucia e vedo un demone del secondo universo per la mamma quindi è un un interferenza per creare questa sofferenza non so se c'è a lei non è che interessasse tanto lui più di tanto ma comunque la difficoltà ad avere un figlio da sola c'è stata all'inizio quindi questo di questo demon del secondo universo che è lo stesso che poi l'ha portata a conoscere il marito della madre ecco il padre viene nel cinema si seguire qualcosa in fondo sono un po frastornato mi mancano di pezzi in mezzo dice quindi vuole dire qualcosa la figlia in eterico se ne si sarei stato volentieri per te se ok ok causa esoterica dell'insonnia dello svegliarsi alle tre e mezza di notte e dei sogni ricorrenti allora alcuni sogni ricorrenti sono delle allora alcuni sono ci sono tre tipi ne vedo loro alcuni sono dell'abduction in cui la sua ps si sveglia altri sono delle delle informazioni che la sua ps vuole farle arrivare e poi ci sono tipo quello che ci ha raccontato che sono delle interferenze senza abduction ma che arrivano nel sogno ok quelle della cretina dislessica poveretta è stata proprio lei si aveva già visto subito quando la della dell'esco la dislessica mi viene anche a me la dislessia ho vato a dissuaderla lei direbbe dissuader la marata si dice dissuaderla si con la sua quinta elementare va bene quelle cui scuole dell'obbligo che ha fatto che che qui valgono come quinta elementare dicevi la scusa lui ci ama quando una coglione bisogna dirlo allora si sveglia alle tre e mezza perché la sua ps che adesso si sta riuscita a trovare questo strumento per collegarsi sempre di più alla consapevolezza di lucia soprattutto succede quando la sveglia dalle abduction riesce a portarla via prima adesso sempre di più a 21 anni lucia ha già tre figlie posa a 14 a 23 anni il mondo le cade addosso tenta il suicidio causa esoterica esoterica allora la causa esoterica è sempre nel progetto di togliere dei pezzi ok sperimentare cosa succede quando vengono tolti dei pezzi sono riusciti con tutto questo carico un po quello che dicevo prima o vengono tolti le venivano tolti dei pezzi o le veniva spinto un carico addosso in maniera tale che lei si chiudesse no e le sue vibrazioni si abbassassero qui aveva questo marito pesantissimo e tre bambini piccoli ok era il carico che la spinta la spinta proprio in queste vibrazioni bassissime tanto da portarla alta a togliersi proprio il corpo del tutto che hanno provato a la ps in accordo proprio ok è arrivata a far sì che lei si chi l'ha salvata lei si chi è una ps era proprio no 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 l'esperimento della ps era proprio quello vedere se cosa riusciva a fare quindi il padre mai conosciuto matrimonio 14 anni il fatto di essere stata mollata in un'altra casa dalla madre anche lì a 14 anni il fatto di non aver proseguito in questa casa seguendo un'amica insomma errori su errori poi il suicidio poi matrimonio difficile il marito impossibile fatto che adesso il marito è allettato a casa sua i figli insensibili tutto questo fa parte del progetto abu pura che se ma un deodorante da bagno diciamo una risata dai meno a leggere un po anche tu abu pur le ps nell'anno x che non sappiamo lucia contatta gustavo rollo e lui la richiama e la incontra finalmente conosciamo qualcuno che ha conosciuto gustavo che non c'è più adesso tutti i familiari mi scriveranno che devo togliere il video io non lo tolgo mi sono rotto il cazzo e non dire parolacce lena chiamiamo gustavo rollo se non volevate questa cosa non dovevate farlo diventare un personaggio pubblico ma allora quindi gli fa con da loro che sia pubblico quando vogliono loro da vendere amiamo gustavo rollo io voglio di nuovo chiedere delucidazioni sulla quinta musicale il verde ed il calore e allora mi fa proprio vedere lui mi fa vedere che da fin da piccolo ha avuto questa capacità di maneggiare mi dice ce lo vedo e mi dice l'energia il campo ok è riuscito direi che a differenziare la dico così come se avesse differenziato e diviso l'energia del campo ok nella parte sonora visiva e termica e poi ha imparato a gestirle a quindi aumentarle a diminuirle ea sincronizzarle con le vibrazioni del suo corpo e dall'interno del suo corpo all'esterno tutte e due modularle per arrivare al suo benessere e a fare il passaggio della materia mi viene da dire in generale che faceva se ci chiamiamoli così un giorno roll scopre un qualcosa che lo manda lo manda completamente in crisi lo confessa solo da alcuni un segreto inconfessabile quale scoperto che dio e lui si ha scoperto che mi è venuto proprio quando mentre lo chiamavamo ho visto questa cosa lui ha scoperto che per anni avrebbe potuto fare anche altro ma era stato manovrato dall'entità che tipo di entità allora qui vedo una figura si umanoide potrei dire che può sembrare simile a quella che ci descrivono di gesù hanno usato il canale religione sì non solo è di qua ma lo descrivo così è tipo la figura umanoide tutta d'oro sembra un uomo d'oro con una specie di criniera corona d'oro che potrebbe la vita e come renida non lo so potrebbe questo con adoro ti potrebbe essere o potrebbe essere quella quella divinità indiana si chiama ganesha no perché c'era l'elefante no a cali ecco con tante braccia si d'oro però è oro con l'universo sì o christian che poi a gesù cristo ma allora sì però cali a tante braccia tu hai visto una e io ho visto è una corona sì tipo una criniera ma corona tutto d'oro pensa che crisi ma questo è che sarà visto crisi ma si sono accorto quindi se quindi che ha fatto allora ha cercato di allora andato a molto in crisi quindi vibrazioni molto basse poi si è ripreso sapendo manovrare le vibrazioni io vedo che si è ripreso ok c'era come questa e come posso descrivere non mi viene la parola dammi la modo in certezza incertezza nel perché voleva staccarsi da questa cosa ma e poi c'era comunque questa spinta potente no quindi era sempre un po ci ha messo tanto a superare questo momento di passaggio da una parte all'altra ok è riuscito a staccarsi ed è riuscito a staccarsi nel momento in cui ha raggiunto la morte fisica lei chiamato come lo vedi è arrivato intanto ci si arrivava davanti che sto parlando io ma sono all'interno di lui ok ci siamo tu io lucia e roll come siamo messi e disposti io qua qui c'è luci e qua ci si tu lui la riconosce lui la riconosce e ha sentito ovviamente già dalla chiamata la sua energia sentito visto tutto no visto sentito sentito a livello energetico uditivo di tempo c'è tutto no tutti gli aspetti energetici in lontananza la vista proprio e ha sentito che con le sue credenze di allora poteva essere utile facilmente senza sforzo e non so come dire era proprio come se avesse invisto in lei allora ha visto lucia e ha visto che era la persona giusta ad aiutare nel senso che lei era proprio completamente denudata davanti a questa cosa no era l'ultima l'ultima strumento che aveva ok lei è arrivato a chiamare gustavo roll perché era l'ultimo strumento che aveva le approvate tutte dice provo anche questa io provo tanto non ho niente da perdere no e lui questa cosa l'ha percepita e la vista e quindi l'ha aiutata e l'ha voluta proprio incontrare l'ha voluta incontrare perché incontrandola è riuscito a passargli una certa vibrazione per far sì che lei seguisse una certa strada è dato coraggio invece al sito non sapendo dopo lui ha scoperto che quello che faceva era un po deviato dalla oggi cosa le vuole dire da per dire lucia e più avanti o più indietro di roll come anima a no più indietro di tanto no non di tanto è come se è come se ecco ecco questa da quel momento in poi come se lei scoprendo lo strumento roll quindi scoprendo lui e con la sua esperienza lei avesse aperto la strada aperto la sua strada di lucia esattamente identica quella di roll no solo che lui era già avanti parecchio quindi lei ancora tipo all'inizio della scala e lui alla fine però i gradini che lei ha davanti sono gli stessi ecco infatti anche secondo ma c'è cosa serve a cosa serve sapere la scomposizione dell'energia del campo tu mi hai detto in termini non visivi e termici che benefici può dare fare quei giochi che lui faceva quindi capacità medianiche sì esatto è solo un allenamento lui l'aveva trovato no così aveva provato sperimentato e quindi adesso lui prende queste informazioni le mette in una sfera verde e le date a lucia e a me sperimentato e quindi ok cosa vedi che mentre prendiamo la sfera verde in mano la prendiamo così le informazioni si diffondono in tutte le cellule e fino alla testa ok man mano che ognuno di noi tre toglie i suoi limiti ogni pezzo di questa informazione capacità prenderà al suo posto quindi sarà proprio ci saranno dei momenti in cui ci accorgeremo che sappiamo fare delle cose col campo energetico che non sappiamo da dove arrivano ma ci sono stati li abbiamo apprese ora ecco ok in cambio gli diamo una vic vibrazione informazione consapevolezza che mi sa che anche tanta più roba facciamo un baratto iniquo e tanta più roba nella vic c'è tutto esatto c'è la consapevolezza che rolla e dio per se stessa se che non ci sono servi da servire da baciare da questo per lui e tanto perché si è proprio trovato incastrato in questa dicotomia direi no è fatto fatica a uscirne è stato il suo la sua battaglia intanto c'è il portale aureo aperto e invitiamo a tutti i parenti di tutte le generazioni di lucia ad entrare lì lui roll non è un parente che fa cosa vuole fare è lì molto incerto lo deciderà lo potrà aprire per conto suo quando ora ma lo salutiamo ci vuole salutare con una battuta una battuta a te una me e una lucia iniziamo con la te quella te tutto è in quel tutto a me se apri scorre a lucia sopra e sotto sono da unire messaggio che ne ti ricordo a lui liberati è meglio che ci dai tu la tua bolla non è vera che gli da lucia affidati ok lo salutiamo non è andato nel portale aureo giusto chiediamo il portale aureo di lucia quanti sono alla fine 113 ok il dubbio di lucia dopo varie consapevolezze quindi era fondato ci sono il sesso ovviamente no male no bene un dubbio rimette in discussione una parte 116 consapevolezza lucia all'inizio al luce a quanto sta adesso di consapevolezza dopo questa parentesi 138 e dico vibrazione 28 miliardi bene qual è la peggiore esperienza per provarle tutte no che ha fatto tra le sedute le letture col medjugorje tutte spiritiche c'è qualcosa quello del secondo universo di adesso è legato è il pesce pescato in quella battuta di pesca se sto guardando se si 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 tur automatiche cosa hanno tirato su allora quello che vedo adesso nel suo caso in altri casi non so ma nel suo caso vedo che mentre scrivono allora come se lo come se loro le interferenze donassero tra virgolette l'inchiostro e in cambio prendessero l'energia che c'è lì quindi sia della persona che chiede la scrittura che di quella che scrive non vedo proprio a pari parola c'è tanta energia che prendono dalle due persone ok cosa vuole fare l'aps di lucia vuole andare al cluster e sbattere via tutto proprio dice ok andiamoci al cluster però prima di sbattere via tutto identifichiamo nello specifico i vari singoli contratti quello di nascere senza padre dov'è come essere portato da anche altre quattro vite allora uno hanno due vite è morto uno quando era piccolissima e uno quando era nella pancia della madre poi un altro è sparito è andato in guerra e non è tornato perché è impazzito e poi ce n'è un'altra dove c'era ma era sempre via perché lavorava lontano andava e veniva ma era praticamente sempre via e poi c'è questa dove c'è stata questa esperienza qua ok poi quello di avere una madre che la abbandona che non le dice la verità che qualche la lo individuiamo come contratto quello di avere dei figli prematuramente lo individuiamo quello di essere collegato a quella entità mentale 5 e quindi a un marito lo individuiamo quello dell'altruismo assistenzialismo lo individuiamo e bla 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 individuiamo tutti poi ci sono tutti quelli delle sue vite parallele che a noi non dicono niente ma che alla sua ps dicono e come e anche nella vita di lucia quelli possono gravare assolutamente dare le sfumature alle esperienze principali ecco direi quindi tutti questi ma come che li vedi come palline si adesso adesso nel suo caso sono come delle tavolette che fluttuano allora quelli principali sono più grandi e fluttuano più su e gli altri che sono diciamo secondari sono più piccoli e sono quasi raso terra ok via tutti portale definitivo e adesso lucia mostra a tutti noi quanto è brava a fare un doppio ad eterno uno normale e uno verità la verità delle cose più che mai importante anche per lei in questo caso la verità è che questo è solo un gioco solo un'opportunità che lei crea tutto ai dolori muscolari tempo creare l'esperienza di non averli più abbiamo una cliente di recente no marito e moglie ti ricordi che ha smesso di essere dopo 50 anni allergica ai pollini di recente dopo una sessione con noi desiderandolo ardentemente nell'arco di due giorni non stranutiva più dopo 50 anni che stranutiva tutte le volte che arrivava alla primavera quindi è vero non funziona assolutamente sì adesso cammina nei prati contenta e felice respirando a pieni polmoni e non stranutendo più via tutto i due ad eterno come li fa lucia allora il primo mi allora mi chiede diciamo con lo sguardo di vedere se riesce lo fa creandolo tra le due mani allontanando le fa una una grossa sfera che poi mette diciamo al suolo e poi invade appena lo mette al suolo tutta questa energia invade tutto il cluster e allo stesso modo crea la detta non verità se lo appoggia che questo al suolo e un quale invade tutto lo spazio dopo avatar ma buttiamo anche qua non analizziamo più le caratteristiche dell'avatar quanti capelli a quanti quanto assomiglia o meno a un manichino ma lo buttiamo subito nel posto in cui deve andare portare definitivo e anche qui due ad eterno però le aveva inventati ad eterno non mi sa di no 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 io vedo che con le mani creava un accumulo delle vibrazioni dividendole ok poi le regolava e quando erano diciamo neutri tra virgolette le sincronizzava col suo corpo e poi le alzava fino al suo benessere no e sentiva proprio poi una cosa unica e quindi poteva fare gli spostamenti vari che facevano di sé delle cose e creare 2 ad eterno qua quindi ok messo fatto c'è ok con queste condizioni le vecchie entità eteriche le attuali entità eteriche le vecchie entità mentali se c'erano e le attuali entità mentali tutti i contratti tutti gli impianti ci sono ancora no ma no c'è niente e lucia come la vedi lucia la vedo molto 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 forte a livello energetico che si sono alzate le vibrazioni parecchio appena abbiamo pulito tutto è come se adesso la scala tirol ok fosse molto nitida e quella è l'unica via che le si presenta davanti quindi molto frui che fluisce molto in quella direzione lì la vedo che le vibrazioni si sono alzate parecchie quanto 346 miliardi da 3,8 più del 100 per cento li vuole le vuole alzare a 500 che circa un 150 per cento no meno ok non riesce se si è arrivata fatica starci è solo una prova visto che lei chiede alzate non le alzate genu le alzate tu non le alzate io non le alzate roll non le alzate la energy line non le alzate la preghiera non le alzate il mantra le alzate lei come le alzate le poi abbassare 340 comfort zone ma oggi sa che le può alzare e quindi magari tra un mese più pronta per passare a 40 sarà un altro mese più pronta per arrivare a 500 e poi scopre che il 500 non è più il suo massimo e continua ad andare avanti esattamente alza le frequenze e più eventuali ritorni molto vaghi d'entità che possono sempre tornare perché è entità olandia questa realtà ci siamo messi per ferenza olandia o quant'altro quindi è inevitabile e come dire di non bagnarsi quando si è a fare il bagno al mare è impossibile tutte queste piccole tentativi piccole prove provocazioni familiari la panettiera quello per strada che possono succedere capitano tutti le sbatterà il cazzo non le fregherà assolutamente più nulla se ne farà una gran risata e dirà anche questa è un'opportunità di comprensione di crescita per me e non come sono sfortunata la panettiera ma trattato male e mi ha dato più una un chilo e mezzo io chiesto un chilo eccetera consapevolezza 168 ps 62 quanto è vera la consapevolezza di roll a consapevolezza e mi ha detto stavo guardando che era venuto mi ha perso il cervello quindi vediamolo 86 il cervello se cervello che diventa poi energia energia cesso in vita non adesso in quello stato di consapevolezza la vibrazione di ron la vibrazione di roll adesso è 20 milioni di miliardi di miliardi di miliardi c'è sicura quanti 0 rivedi quanti coppie di 30 veri va bene tante la consapevolezza dopo un po' sarà altrimenti no la consapevole rivoluzione va bene vite precedenti di lucia 1638 cervello di lucia 9.8 ok messaggio della ps finale e anche consigli sul da farsi allora la ps dice ora il tempo di pensare a te e quindi di creare creare lo ripete una diversa strategia anche rispetto al proprio nello specifico all'accudimento di tuo marito mi fa vedere che adesso è c'è il posto dove vive e quindi anche il suo marito e diciamo e crea tipo un tetto scuro sopra ok è tempo di aprire questo tetto e volare nell'azzurro quindi è tempo che lei pensi al a sé ea come deve far cose per sé incontrare gente gente per le piacevole con cui può parlare di certi argomenti andare la vedo sia andare cioè passeggiare molto anche è come se il suo allenamento per alzare le vibrazioni fosse quello di sentire le vibrazioni delle persone anche sconosciute cioè quindi la vedo che passeggia ok in posti dove non che è affollato ma dove c'è altra gente che passeggiano ok quindi è proprio come se le dovesse confrontare e rapportare le vibrazioni per imparare ad alzarle e a parte c'è la sale più che abbassarle quindi questo confronto con quello con le vibrazioni degli altri e con quelle della natura però questo c'è della natura per tutti nel senso che spesso questo aiuta molto ma io vedo che lei è proprio la necessità di sentire le vibrazioni degli altri per imparare a riconoscerle e poi adesso è libera di dipingere la vedo dipingere sulla spiaggia spesso vedo come se le conoscesse un angolo dove può dipingere liberamente senza essere disturbata il suo lago ultima immagine di lucia c'è ancora quella anello con le catene legate a lei no no non c'è niente cosa c'è adesso allora lei niente c'è è un po sospesa da terra ok ed è tutta vestita di viola è lì ferma pronta ad andare verso il suo benessere assolutamente sì ok la prima ps dice se tu segui il tuo benessere ti alleggeri rai proprio anche fisicamente ok pronta a tornare se ok un attimo